Alla fine, al di là delle soddisfazioni dei vincitori, ciò che resta della tornata dei ballottaggi per le elezioni amministrative che ha consegnato al centro-sinistra ben 15 capoluoghi contro i quattro ottenuti dalle destre, è il dato sull'affluenza che crolla al di sotto del 50% quasi ovunque in Italia. Un popolo di potenziali elettori che sceglie di non scegliere. Le ragioni di questa disaffezione saranno chiarite dalle analisi approfondite dei flussi, mentre un primo messaggio su ciò che non ha funzionato tra i suoi elettori simpatizzanti l'ha dato Giorgia Meloni. Il centro-destra esce sconfitta da queste elezioni amministrative, ha detto senza mezzi termini, dopodiché ha affondato il colpo sull'alleato della Lega. Quando un pezzo della coalizione sta al governo con PD e 5 Stelle, ha detto al Corriere della Sera, è difficile presentarsi come un'alternativa nelle grandi città, gli elettori sono disorientati. Va da sé che con la chiusura delle elezioni amministrative si apre dunque la fase di discussione interna della coalizione, dove Fratelli d'Italia tenterà di detronizzare la Lega di Salvini. Intanto gioisce il centro-sinistra e in particolare Enlicoletta, che oggi rivendica la vittoria in quasi tutte le grandi città italiane al voto. Torino, Roma, Milano, Bologna, Napoli, Ravenna, Savona, solo per dire alcune. Vedremo se il vincitore e lo sconfitto finiranno per dialogare in vista del nuovo grande appuntamento del 2022, l'elezione del dopomattarella. In Toscana il risultato del ballottaggio è chiaroscuro. A Sansepolcro alla fine l'ha spuntata il centro-destra, mentre Massorosa va al centro-sinistra. La somma totale tuttavia parla chiaro. 18 comuni in Toscana sono andati al centro-sinistra e soltanto 10 al centro-destra, mentre in tre hanno votato sindaci candidati con liste indipendenti. Un risultato chiaro e soddisfacente, dice la segretaria del PD toscano, Simona Bonafè, che probabilmente tranquillizzerà anche le turbulenze interne ad un partito, che appare più solido nei seggi che nelle proprie stanze.